benvenuti in un nuovo video dentro la bottiglia di minecraft ovvero la bottiglia come bottiglia verticale non ne va più e cosa importanti sono cresciuti due alberi quindi mi raccomando pensate a tagliarli che così ci continuiamo a fare un po di legno ho visto che mark invece sta andando a minare qua ma hai un bel piccone mark non ha nulla l'ho fatto per voi il ponte per marci marco l'ho lanciato non sei neanche in grado di prenderlo ok allora è fede dimmi e tu pensi agli alberi si ok marci vieni con me volevo andare a prendere della terra ok aspetta che arrivo seguimi perché abbiamo bisogno di più terra abbiamo bisogno di piantare del grano utilizzare la bombial e dobbiamo prendere degli animali cioè mi sembra che il problema principale che stiamo avendo al momento è il cibo e noi qua abbiamo una mucca la vedi e sì come la portiamo quella mucca lì esatto come la vuoi prendere il fatto è che non abbiamo neanche grano però quantomeno per adesso io ruberei un po di terra da questo posto vai facciamolo mi sembra comunque una buona idea non ho una pala aspetta vado a fare la pala è una bellissima idea abbiamo del ferro ragazzi già cotto io ne ho messi due nella cassa se non li avete consumati dovrebbero essere per la pala basta infatti abbiamo un grosso problema cibo per ora ma proprio gigantesco ma lì c'è della lana potremmo fare dei letti eh not bad non sarebbe male sinceramente non sarebbe male per nulla non sarebbe male per nulla allora comunque con la dirt siamo a posto raga qua ce n'è veramente un sacco quindi quel problema non ci sarà più adesso abbiamo un problema di cibo perché qua comunque c'è solo una mucca quindi cosa ce ne facciamo vuol dire che dovremmo trovare la seconda mucca da qualche altra parte portarle mamma mia che disastro anche se poi in verità io avevo trovato 5 di bon meal se vogliamo usarla per il grano non so se magari è sprecata boh non iniziamo a far crescere e poi ne piantiamo dell'altro ma ci sta il problema è che tanto finché ne portiamo una di mucca alla fine è solo in mezzo alle scatole quello sì per quello sto dicendo magari avviamo la produzione di grano dov'è il tuo inventario sei molto gentile almeno andiamo più veloci opla bravo siete tutte brave persone raga vi portiamo forse due stacchi di terra quindi da ora in poi finalmente forse possiamo campare di mele per ora la casetta e villager e il vetro come bosco verticale anzi bottiglia verticale ragazzi campione quante volte devo sbagliarlo qua nome allora dimmi un po guarda è iniziate a litigare il più ricco allora vediamo qua hai 5 di ferro hai diamante eh te l'ho dato io non è vero ricorda che c'è da fare alberi sì uno da quella parte allora e come risaliamo a questo punto uno di jungle bello ok facciamo io sto quasi per morire di fame porca miseria una scala di ok allora io da quest'isola ho raccimolato sei di ferro e cinque di gold ah pensavo di più lo sai sì veramente poco cioè sembrava un'isoletta bella piena invece di però vabbè c'era un sacco di lava più caldo che non è che servisci anche anche niente oh ma c'è del coal qua stef mi sai sui minerali qua sotto hai un piccone sì sì vai vai divertiti allora allora io inizio a tornare così porto la delta agli altri e dovrei aver più o meno azzeccato la strada potevo fare un po meglio però comunque con un minimo di parkour ok perfetto a questo punto riporto la delta a casa e vedo un pochino che isola ho visto qualcuno cadere era fatta apposta no 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 quando è caduto qualcuno dai dimmi che l'hai fatta apposta ti prego perché non avevo più fame sono povero ma non avevi ma nulla giusto no avevo solo piccoli diamanti avevo con me tranquillo il panico davvero è una cesta fammi controllare se qua dentro niente cesta allora allora sto spandendo anche le piattaforme negli alberi perché così non rischiamo che con le foglie cada qualcosa vi ho lasciato praticamente due stack di dirt nella cesta ok perfetto quindi potete approfittarne io inizio a avere parecchia fame mangio le mele e vediamo eh pure io no occhio ragazzi i letti no fare quattro letti sarà impossibile abbiamo legna io andrei sì un po' ne abbiamo eh allora trasformo questa raga andiamo nell'isola della torta c'è un botto di lana è quello che stavo pensando anche io tieni Steph questa non è trasformata è anche un sacco di slab vuoi pure le slab ti servono per fare un ponte? eh sì ti ho buttato tutto ok e ho buttato anche un blocco che mi ha avanzato sì servono assolutamente i letti cioè non fa così eh ragazzi ora dobbiamo andare nell'isola della torta è qua sotto ma qual è? dov'è? l'ho vista prima io è bellissima fattene una vedere di qua di qua 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 ok ho paura di cadere oggi non so perché sento che oggi cadrò no 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 ma è così vicina? sì è qua guarda che carina però come scendiamo? avremmo bisogno di un bucket d'acqua allora in realtà ci possiamo lanciare su quei cubotti di acacia che tanto prende pochissimo danno e poi facciamo un ponticello per salire con la dirt dai dai facciamo prima sicuri se no me lo porto il bucket d'acqua è molto semplicemente no oddiamo essere survival noi anche secondo me era troppo poco survival altrimenti che buio che c'è? abbiamo bisogno anche del carbone nella nostra vita cioè altrimenti iniziamo a cuocere io ne ho dieci pezzi ma ragazzi c'erano anche torte da mangiare qua dentro? sì infatti voglio mangiare allora è bellissimo stiamo morendo di fame peri almeno due torce ce li hai? no purtroppo no che buone cerca cercate di creare le torce raga non si vede nulla qua dentro marci io ve lo dico allora iniziamo a prendere tutto sì cosa ci fate? no ma c'è aranciato a capofitto mi spiegate? possiamo fare anche i letti rossi che bello arancioni è pieno di colori queste sì che sono le cose importanti sì certo per me l'importante è fare dei letti abbiamo una crafting table? sì no posso che lo scarlo eh no dai c'è ragazzi in base eh sì ho capito ma ci tocca tornare volevo dormire al volo eh vabbè torniamo aspetta aspetta Steph dai qua così su qui eh ok è legna? sì io non l'ho portata tieni tenete qua ve la sto lanciando dall'alto oh cavolo anch'io vabbè dormiamo in questo isolotto creiamo quattro letti e dormiamo e poi ce li riportiamo allora un letto due letti eh piazzateli tutti ragazzi li avete voi piazzate piazzate piazzati eh l'altro levati Steph se no non abbiamo spazio vai buonanotte questo è un bellissimo obiettivo ah niente più notti ok adesso direi di farli colorati ne possiamo fare uno arancione uno rosso uno bianco due rossi due rossi due rossi dai no io lo voglio arancione ok io lo voglio arancione quindi io ho marcio arancioni marco rosso e ferro bianco rosso due rossi e due arancioni allora e beh dai meglio di averlo bianco preferisco rosso a quel punto ok vero stiamo davvero parlando del colore dei letti vero sì abbiamo la scelta che vuoi ok e ci serve l'altro la lana qua mmm non credo beh però ci possiamo fare i tappetini prendiamola dai possiamo decorare un po' bella eh cioè alla fine la nostra bottiglia è verticale bravo dobbiamo arredarla bene anche dentro ok allora chi ha blocchi per fare il ponte per tornare su? io ho 48 pezzi di terra allora partiamo dal bucare no? così usiamo il vetro come scala ok che secondo me ha sempre senso ok va bene e fate fare a me vai oppla 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 poi arrivati a qui dobbiamo bucare questo purtroppo non accetta quindi ci metto un pochino e si arriva qua da qui andiamo così andiamo così e andiamo fino a qua ok e a questo punto bisogna villare ok va bene vai vai sposti in capo vada vada e faccio una alla volta ok dai non è difficile tornare no no era abbastanza easy ci siamo procurati però dei letti quindi niente più notti in questo mondo lì c'è una bellissima isola che è tipo una spiaggetta privata è vista che bella che l'è bellissima è l'isola privata con la spiaggia al mare è bello prendi una bottiglia vada attenti alla curva eh mi raccomando ma campioncino hai lasciato del koal in quell'isoletta che stavi picconando tu ah vado a recuperarlo vado a recuperarlo ma dimmi te fermi no no indietro cosa avevi il piccone indiamante il piccone indiamante perché non sei tornato indietro Marco è in silenzio ripianto l'alberello io non ho parole ragazzi no lui è così è così c'è tutti ah ma qui sono esplosi pure tutti i nostri semini ah il piccone indiamante l'aveva lasciato dai almeno quello dai sono buono mi sto prendendo in giro non avevo nulla solo il miretto manomale tranquilli allora posiziono qua tutti i materiali con il letto l'ho recuperato vai Steph fai i letti colorati dove pensiamo i letti? dove vuoi? no secondo me guarda tipo due qua due qua e due qua così non stanno in mezzo alle scatole spostiamo sta torcia ok la mettiamo magari ah no nel vetro non si può mettere però qui si quindi va benissimo comunque non è colpa mia ma ragazzi il creeper si mimetizzava non è colpa mia questo lo lascio in la cesta quelli rossi li avete creati? no no lo sto facendo ma scusa fanne uno e uno sono più carini ok guarda la lana rossa tipo uno qua io ne ho una di lana rossa ce l'avete voi insomma io una ho fatto ci sei rubata no non mi sono rubata basta qualcuno ha lana rossa no io ne avevo una e l'ho messa nella cassa raga come è possibile era pieno fatto 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 ok raga è cresciuto un altro alberone un sacco di alberi ragazzi io vado nell'isola dietro ok questo è qua in fondo allora Fere metti a piantare anche un po' di semini normali eh non ne ho Steph o l'hai preso tu il grano non ho capito se l'ha fatto esplodere il creeper io ne ho messo tre ok allora usiamo la bombiera e facciamo crescere sto grano però dai così ci prendiamo la mucca dai vai fai così fai così secondo me secondo me in quella bottiglia di lava si nasconde qualcosa di prezioso il tuo cervello ma è certo io sono un passo da lanciarti giù Steph te lo dico eh puoi ma perdi una spada di diamante eh mi spiace ma siamo ripianta tutto ok anche dall'altra parte no non puoi e io lo faccio e esplode il mondo Steph hai i slab che ti avanzano me le rendi slab? sì quella che avevo fatto in jungle ok perché vado a farmi la base per prendere gli alberi ok allora io ho i tre di grano per prendere la mucca ce li ho ma non prendo quella mucca finché non vedo una seconda mucca beh sono d'accordo perché tanto una mucca senza una seconda mucca è una mucca che non è mucca è una mucca triste è una mucca persa esatto bravo allora però non ho parole quella è una mucca quello è un cavallo ma come bello che vi devo dire bello ma dove ci serve un cavallo non lo so ci serve a nulla beh non è che sia così tanto semplice muoversi da una bottiglia all'altra quindi non è che ci puoi andare al galoppo è veramente un disastro la situazione non capisco dove sono gli animali ragazzi forse qui c'è qualcosa no qua c'è non ne so più di cosa ci sia qua c'è una cesta Steph vieni ad aprirla tu no vai apri apri sono troppo lontanissimo sono iniziando a creare dei ponti dato che c'è qualcuno che non li fa esatto anche io sto facendo dei ponti perché qualcuno non li fa si boh cioè tu gli dai un lavoro e poi lui non lo fa è una roba incredibile questo ragazzo boh non ha voglia di fare nulla non mi assumo le mie responsabilità perché non mi sta dando responsabilità mi spiace capisco non ho capito neanche io non capite mai nulla è un ragazzo molto enigmatico beh sempre stato enigmatico altronde allora qui ci spandiamo io vi ignoro ciao eccoci quando siamo più intelligenti il miglior modo è sembrare enigmatici buongiorno 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 allora direi che può ma che cavolo non so se ci sarà qualcosa di utile ma non lo so è molto brutta questa isola però c'è c'è della bedrock che potrebbe non è bedrock dell'ossidiana che potrebbe servirci per andare nell'ed sì io confondo spesso le confonde sempre non le azzecca mai ragazzi mai quindi non so potrebbe essere una buona idea ah qua c'è una cesta vado a prendere la cesta da mentre quindi ma c'è il piccone c'hai tu il piccone in diamante no io non l'ho preso che brutta cesta ragazzi che brutta cesta mi piace questo tuo raccontaci cosa c'è da marci della carta e un disco ok vabbè la carta ci può servire per il chant and table la musica mette buon umore infatti qua ci sono le librerie mmm 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 quindi c'è qualcosa qua sotto secondo me ragazzi sono wow cos'è ma perché ogni volta che apro io una cesta c'è tutto diamanti libri smeralli carbone ossa bello e tutto quanti diamanti hai oh sei diamanti eh 16 smeraldi che succede marci ho trovato qualcosa di molto nascosto e molto bello vai ovvero eh prima devo uccidere questo cheletro qualcuno del grano no io io ce l'ho però poco tre uh vorrei farti un panino sta iniziando ad essere senza cibo no era per la mucca questo grano non posso dare e allora mi dovrò lanciare giù ragazzi ah questa è una bella cosa guardatemi ok tipo carpiato bello bello mi è piaciuto allora deposito tutti i minerali rari che sto trovando così quando vi servono li potete utilizzare ok dovremmo iniziare a fare una sorta di mini magazzino però perché iniziamo ad avere veramente tanta roba comunque qua c'è roba interessante perché ci sono ma infatti ancora non c'è detto cosa hai trovato alla fine librerie nella cesta ho trovato un libro magico incantato con knockback 2 ok e una bottiglia tre bottiglie di incantamento oh non male bello dai non male non male ma non si buttano non si buttano porti per l'ossidiana intanto io dai ok io sto vivendo creando ponti però io sto vivendo prendendo alberi secondo me abbiamo anche bisogno un attimino di di iniziare a usare i water bucket per andare in quelle basse e poi creare dei ponti ma avete visto che poi ci sono delle isole altissime nel cielo eh sì quelle sono un po' le più faticose lo so però insomma ci si può arrivare che sia la morte trasformiamo trasformiamo così siamo pieni di legna papà guarda che bello che sta diventando tutto attorno tutto collegato è super bello è una figata sì 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 assolutamente super organizzati qua potrebbe copiarsi anche questo l'architetto ok Milano tuta con ponti tra un grattaccio e l'altro tuta su spesa del cielo c'è il ponte e tu devi passare se c'è vento non lo so ma smetti ma anche le altre case saranno sospese cosa? le altre case saranno sospese no 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 e tra un grattaccio e l'altro tu fai questi ponticelli di legno in slab proprio in slab non lo so sai non vi piace? no per niente no per niente è un beat avete un po' difficile a Milano sai è pure io secondo me è perché avete la mente un po' indietro eh certo hai ragione scusa tu ce l'hai avvantissimo si feria io sono all'avanguardia per quello non ti ascolta nessuno esatto vedi che almeno ho capito subito marge killed ok allora ragazzi sono andato in un isolotto dove c'era la neve e c'è un alberone gigante oh buono quello di dark oak no è spruce ah ok è spruce però è bello grande è proprio grande grande sto alberone però speravo ci fosse almeno un accesso devo essere sincero sono venuto qua illudendomi che c'è qualcosa di un po' più utile comunque vabbè ci siamo collegati fa paura a sto punto sembra che non ci sia il vetro mamma mia facciamo che Bill & Slab così le persone che passeranno qui non avranno la mia stessa paura bastano più voglia di raccogliere alberi diamanti vabbè ormai li troviamo abbiamo più diamanti che cibo ragazzi sì senza ombra di dubbio assurdo c'è carenza di cibo in questa serie io voglio degli animali infatti ma non di diamanti li sto cercando ovunque quelle sono delle pecore abbiamo water bucket sì e io sto scendendo lo sto usando hai bisogno? no me ne faccio uno col ferro tanto ne abbiamo allora vado a prendere le pecore raga missione pecore vai 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 Sì, ma anche secondo me Quindi forse aspetto un attimo ad andare Così dormiamo No ragazzi ho trovato una cosa assurda 5 diamanti Ma la cosa più importante è 16 di bon meal Cioè di bon Urga Sì, possiamo far crescere un sacco di roba Allora Gli alberi stai continuando a prenderli quando crescono Sì, tutto il tempo, non ho fatto altro Infatti guarda che è pieno di legna Adesso mi sto facendo un attimino un'ascia in ferro Perché giustamente quella in legno non va più bene Allora rimetto tutto a posto Guarda quanta legna c'è Ah ma io ce l'avevo un'acetta, non lo sapevo Però ti sembra una spada in ferro? No ce l'ho, non l'ho mai utilizzata, non l'ho mai combattuta Alla fin fine, quindi Ragazzi c'era una mini TNT Come se fosse un mini villaggetto Nostra bello Mamma mia che rischio Ok Ok, se tornate dormiamo Esatto, sta per piovere Per piovere, non fa notte Ormai sono abituate, c'è sempre pioggia Bene, hai previsto il meteo di domani Sì esatto Che bello Adesso è che ci svegliamo e ci sarà il temporale Ok, ok Va bene, va bene Allora, quell'arancione è stato rubato Quindi devo dormire qui Marco Arrivo Dove sei? Sempre lui bisogna aspettare Sì, è incredibile Questo ragazzo è una cosa veramente allucinante Cioè, non fa ponti Non dorme Io dico Se cosa fa? Ti uccido Ti sto per uccidere Ti uccido Io sto dormendo Lo uccidiamo tutti Buttiamo per uccidere Siamo in democrazia 3-1, finisce male Guarda qua Allora Perché la democrazia funziona solo con lui Invece poi diventa una dittatura Quando è in torno Non è mai stata una dittatura qua Mai Ragazzi abbiamo uno stack e mezzo di Uno stack e cinque di bon meal Io lo utilizzerei un po' Sì, pure io Ma per il giorno ci serve ragazzi Ok Vai Andate Non cresce con l'accidenti di grano Però cercate di non fare troppi panini raga Ve lo dico perché comunque alla fine Sto per prendere un botto di pecore E quindi alla fine della fiere Conviene E darla a mangiare a loro E poi mangiare cibo Alla fine della fine Alla fine della fine Mi piacerebbe Alla fine della fine Mangiare carne Ok Ma stai andando nell'isoletto sotto? È una missione veramente complessa questa fare Eh ti vedo Ma come fai a portarle qua? Eh devo fare un ponte infinito Eh porca miseria se lo devi fare Sto studiando altre isole intanto Ma niente mi sta emozionando per ora Io ho visto anche dove sta l'altra mucca in realtà Però è sempre in bassissimo Ne abbiamo una sopra la testa Che non so se è interessante Perché la vedo da sotto Ma lì sotto cosa c'è Stef? Non ho capito Pecore tantissime Ah i cavalli Sono tipo quattro pecore qua Allora vengo giù con un po' di cobblestone Cerchiamo di fare un bel ponte dai Ok Allora Però conviene farlo dritto Dritto? Eh sì Dritto verso di te Detro di te E poi saliamo in qualche modo Con una scala Non così diretto Eh però dobbiamo andare da qua Sì sì da lì Da lì E io pensavo di fare Cioè così O no? Sì sì così Esattamente così Perfetto Sembra che vi state un po' incasilando E fallo con la cobblestone Perché altrimenti con le slab Qua ci sto sei mesi Ma che alberi ci hanno dato qua di jungle? Li hai visti? Diventano enormi Ah ma anche tu hai slab? Sì Qua Allora l'avevi potuto fare Allora inizio a creare una strada per le pecore Te lo facciamo così in teoria Il problema è che non ti danno spesso i sapling Alla fine Esatto Ne ho di meno Quindi ovviamente mi avanzano spazi E sto mettendo gli oak classici Altrimenti si rimetto sempre jungle Raga ci arriverò mai così verso di voi? Non lo so Non lo so Provate a guardarci dall'alto Aspetta Faccio il giro a rio Perché così è più semplice Perché le pecore si buggano nei blocchi Uno sopra l'altro Quindi così è più facile che ce la facciano Sì sì No però vabbè ci arrivate Ti devi alzare Però sì ci arriviamo Devi salire Sì alla saltezza Non ci arrivate Però alla saltezza Diciamo Lunghezza Siamo lì Sì sì Più o meno siete vicini Esatto All'isola Ma sì ce la faccio Ce la faccio Allora Perfetto Dobbiamo fare Oh my god Che succede Steffo Sì vi cascano di sotto ragazzi Sto avendo un problema acqua qui Sarà per niente semplice portarle qui No no è una missione veramente tosta Ma proprio veramente un sacco Ragazzi Io uso il ferro È perfetto È fatta apposta sta cosa Io l'ho fatta di ferro Mark Cioè non lo fa altrimenti Perfetto E ho rischiato di cadere Anche ero caduto Sono arrivato fino in fondo Prima considera Non mi morirci Eh ho rischiato Ma posso rompere un po' di vetro ragazzi o no? Eh insomma è un po' brutta Non lo so Non sono d'accordo Poi questa proposta qui mi ha fatto un po' male a cuore Sì anche a me C'è Va bene volete le pecorelle Altrimenti rimangono lì e ci cascano di sotto Ragazzi tranquilli Sistemo tutto io No ho capito ma io ho messo un secchiello d'acqua ragazzi C'è un oceano qui da me È un disastro Qui devo spaccare per forza ragazzi Poi lo rimetto Prendo la sabbia E cuocio il vetro e via È veramente un disastro qua Allora ok Ed ecco fatto Speriamo cada qualche sapling di giunglo Giungla volevo dire Però poi ho detto jungle E quindi ho mischiato le parole Vabbè di quello Così ne possiamo rifiantare Legna stiamo andando bene dai Gli alberi crescono molto spesso Quindi stiamo riuscendo ad averne tanta Marco è cresciato Perché è andato via Marco non sei neanche accorto? Sì no 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 Tra me ne ho detto nulla Ah ok Ci ha abbandonato Allora legna e legna Perfetto No Steph Steph Quella pecora È nell'angolino Cade adesso Sto soffrendo lo so Voglio vedere che è la scena Sto togliendo l'acqua No guardala Aiuto Io faccio il ponte più largo Vai vai Ok l'acqua l'ho fatta sparire Arrivo Faccio tutto il giro Stavo veramente impazzendo Perché non volevo risalire Quello che ho dovuto fare adesso Per togliere l'acqua E alla fine l'ho dovuto comunque fare Non mi fa più entrare Aia Aia Uno in meno L'abbiamo perso L'abbiamo perso per sempre No Marco Che bello sto ponte Dovremmo dare il ruolo di ponticiotolo A Marci Guarda che bravo che ha sostanzo No si è veramente bellissimo Come faccio a rompere sti blocchi Che poi è un disastro incredibile Aspetta arrivo Cosa vuoi fare? Eh no niente Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Aspetta aspetta Steph Però un attimo Teniamolo almeno lungo due il ponte Perché se no Sì sì infatti continua a costruire Io vado piano piano Forza Sì che ti piace il grano Vieni 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 bella pecorella Dai Ce ne bastate due Gli altri due possono anche morire Giusto? No No Vabbè raga tranquilli Non avevo niente Ok Avevo solo le slab avevo Che paura Eh scusate raga Mi sono Mi sono preso malissimo L'ho visto proprio cadere da sola Dato aiuto Ma le pecore sostituiscono Mark nella serie? Può essere L'intelligenza no Perché io sono molto più elevato Beh tra cane e pecore un attimo Un attimo Pecora Ma raga perché nelle versioni aggiornate di Minecraft Gli animali dopo un po' non guardano più il cibo che vogliono No ma è la 1.13 che è un disastro No ma anche in 1.14 se ricordo bene Cioè ma è veramente fastidioso avere a che fare con gli animali in queste versioni Non ho capito come l'hanno aggiornato Cioè ogni tot non hanno più interesse Eh si stancheranno Non è che possono sempre seguire Per quanto posso continuare prima di cadere? Aspetta mi sono spostata Stavo andando a raccogliere le mele Ah no dai è tutto costruito Vai sì 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 Marcia ti sta costruendo dietro quindi puoi andare tranquillo Il problema è che se fanno come le mucche Sai che ogni tanto si impazziscono le mucche? Si iniziano a girare Io spero che non lo faccia sta pecorella Ma l'importante è averne due ragazzi Poi se ne abbiamo tre ben venga Ma guarda ma è meglio dargli da mangiare via Piuttosto che perdere tutto sto tempo per portarle Sinceramente Come on Vai 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 Su 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 Ok Abbiamo la terza La seconda Seconda Ok E' dentro? E' ufficiale? Sì sì è dentro Entrata 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 Ragazzi mi metto una mano e ne abbiamo tre E' uscita la pecora Tirano un po' le porte Grigia Scura Corina Ok Vai Stef Oh C'è via la terza Yeah Ed è entrato anche Mark Chiudi chiudi Ciao Finalmente Mark È arrivato insieme alla pecorella Secondo me è una coincidenza Perché Mark è una pecora No lui ha aspettato che noi finissimo No è entrata La pecorella ed è tornata a Mark L'ho pensato anch'io Perché non voleva fare sto lavoro Raga ma loro possono scappare da qui però Possiamo mettere dei recinti un attimo Per ora chiudi un attimo Esatto Esatto Dobbiamo a dormire No 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 Via 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 Va indietro Qualcuno si è preso le slab Ve lo dico Veloce a chiudere Vabbè lascia così Lascia così Ma non è che passano No non passano Fai così Andiamo a dormire Dai Che è tardi Buonanotte 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 Mannaggia ragazzi Ho tutta sta fatica Per prendere tre pecore Però adesso siamo a posto Ora dobbiamo fare soltanto un recinto Che sarà adiacente A questa zona E a quel punto Stiamo totalmente A posto Raga comunque Ci fermiamo per questo secondo episodio Abbiamo fatto delle cose importanti Letti e pecore Che sono due cose veramente importanti Dei veri e propri campioncini Qua sotto Compaio come sempre in altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao